Dopo aver annunciato una conferenza stampa per spiegare i suoi rapporti con la monarchia saudita, Matteo Renzi ha scelto di farsi delle domande e darsi delle risposte da solo. Via newsletter. Ma quello che ne esce è una spiegazione superficiale e confusa in cui è omessa la madre della questione. L'opportunità politica di rapporti di tipo economico fra un rappresentante delle istituzioni italiane e la famiglia reale saudita. Come forse ricorderete, Matteo Renzi aveva promesso di tenere una conferenza stampa per chiarire le ragioni della sua partecipazione alla conferenza, il futuro di Riyadh, e rispondere alle domande sul suo legame con la famiglia reale saudita e, in particolare, con il principe Muhammad bin Salman, con cui aveva conversato amabilmente a favor di telecamere parlando dell'Arabia Saudita come la culla del nuovo rinascimento. Prendo l'impegno di discutere con tutti i giornalisti in conferenza stampa dei miei incarichi internazionali. Delle mie idee sull'Arabia Saudita. Di tutto. Ma lo facciamo la settimana dopo la fine della crisi di governo. Aveva assicurato il senatore di Italia Viva in un messaggio video pubblicato sui suoi canali social. Ora che la crisi di governo si è conclusa e che a Palazzo Chigi siede Draghi con il suo «governo dei migliori». Ma soprattutto ora che un rapporto dell'intelligence USA conferma la diretta responsabilità del principe saudita nell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Invece, Matteo Renzi sceglie di spiegare la sua posizione tramite la propria newsletter. Rispondendo alle domande di se stesso, marzullianamente. Insomma, si fa delle domande e si dà delle risposte. Senza peraltro chiarire moltissimo. Ne rispondere alla domanda centrale. Ovvero l'opportunità per un leader di un partito che esprime esponenti di governo di ricevere compensi da un governo straniero e, in particolare, da una monarchia che non rispetta i diritti umani e che è probabilmente responsabile dell'uccisione a sangue freddo di un giornalista. Grazie.